Buonasera a tutti, grazie di essere qua, grazie a Pierluigi, e se da qualche anno che non venivo in presenza, e poi abbiamo continuato anche durante il Covid, Pierluigi è sempre stato molto votativo, verrò oggi, sono venuto in veste non tanto di semplice divulgatore, quanto invece responsabile scientifico appunto di due parchi archeologici che si trovano in Ogliastra, io cerco un po' di dividere il mio lavoro tra lo scavo vero e proprio, adesso mi sto occupando di uno scavo, di un sito muragico, tra l'altro nel mio paese di origine che è Perdajus, nel Sulcis, ma contemporaneamente appunto lavora anche in Ogliastra, quindi due zone abbastanza distanti tra loro, molto interessanti però dal punto di vista dell'archeologia, una zona appunto in Ogliastra, sicuramente per certi aspetti e più avanti, sono arrivati prima, come dire, a concepire un modello di sviluppo e di gestione del patrimonio archeologico, Sulcis diciamo che ci sta lavorando nonostante ci siano esperienze anche di pluridecennali come quella di Sant'Antio, quelli che erano molto. Detto questo, non so, immagino alcuni di voi già mi conoscano, ho visto insomma avvisi conosciuti, amici, ecco io sono un archeologo, sono specializzato nel settore della preistoria e della protostoria, quindi mi occupo insomma di preistoria ma anche di civiltà muragica, negli anni però ho cercato come dire di portare, tra virgolette, grande pubblico il mio settore che è l'archeologia, quindi collaboro appunto con le tue locali, tra cui Telecosa Smeralda, collaboro appunto con diversi istituti scolastici e poi pubblico dei libri per bambini, libri di archeologia, attualmente ho pubblicato due libri, uno sulla preistoria, uno sulla civiltà muragica e vi anticipo, ne approfitto, poi magari se Luigi è d'accordo potremo presentare il terzo libro che uscirà tra un mesetto, sempre per bambini e che tratta la Sardegna in età punica, quindi l'idea con il mio editore che è la Condaghes di Francesco Carazzo è di creare una vera e propria collana sulla storia e l'archeologia della Sardegna per bambini, quindi tra tutte le cose che faccio vi posso dire che è una di quelle che mi dà più soddisfazione. Detto questo, quindi io inizierei subito appunto con il mostrarvi un video di alcuni minuti sul primo sito di cui sono direttore, che facciamo prima il bono, il nuraghe sceliti, il bono, poi ti descriverò dopo le immagini, sono immagini girate con il drone, in questo caso il dronista è Davide Manca che si è occupato anche delle riprese con il drone per un programma che conduco dal canale 79, un programma di artiologia in Gua Sarda che si chiama Sayana de Suenicus, è un sito che come vedete è pluristratificato, abbiamo due domus de Janas alla base, un villaggio nuragico tutto attorno a questo sperone roccioso e poi il nuraghe vero e proprio, il nuraghe sceliti, che sorge vedete su questa piccola sommità di granito, è un luogo ricchissimo appunto di roccia granitica, siamo in una vallata del territorio di Bono, è un punto molto strategico perché probabilmente qua il fine era quello di controllare questo grande guado che passa sotto con un corso d'acqua, tutta l'area è ricchissima di monumenti archeologici, proprio il nuraghe di recente è stato oggetto di una campagna di scavo dove è stato trovato pochi metri dal nuraghe, proprio un piano di cottura in argilla di alcuni metri che è stato rimosso per essere portato nei laboratori di restauro che tra l'altro abbiamo alla Lusei, pensate che proprio un anno fa è stato inaugurato un nuovo centro di restauro che per grandezza, per professionisti appunto che collaborano e secondo solo a quello di Lipunti, famose per la questione legata ai giganti di Monteperama. Il sito è facilmente raggiungibile, più che altro non possono arrivare grossi mezzi, i bus non arrivano, o meglio si devono fermare due chilometri prima, a me è capitato di accompagnare dei gruppi anche consistenti però poi aspetta loro a una passeggiata di circa due chilometri, l'ideale è farla in primavera perché già in estate in questa zona c'è abbastanza caldo, a differenza invece del sito che vedremo dopo, che è il sito di Seleni, dove anche in piena estate le temperature sono vite e è un luogo abbastanza ossigenato. Il Bono è un luogo ricchissimo più che altro di omivelli, tant'è che l'etimologia del nome dovrebbe essere quella di Oleum Bonum, ci sono appunto libri secolari, è uno dei paesi diciamo più importanti dal punto di vista proprio dell'economia legata allo sfruttamento. Ebbene questo insomma è l'Uraghia Sceria. Adesso vi mostro invece l'altro sito, è una grande foresta di leggi e di sughe, insomma a fare da padrone a tutta l'area. E questo sito, poi vi racconterò insomma un po' le vicende che hanno portato alla sua scoperta, sono in mezzo a... Non sono io, ho messo a te. Anche qui, insomma, è un sito molto affascinante, chi viene da noi sia a Il Bono ma soprattutto a Seleni rimane colpito proprio dalla cornice antitale che attorni a questo scenario fantastico dove si spazia dal mare, perché il mare è vicino, però come sapete la costa agliastrina è abbastanza aspera, no? È fatta proprio di queste grandi rocce di granito e si arriva appunto con la vista fino appunto ai monti del Genargento. Questa è una delle due tombe dei giganti, la tomba 1 che è anche quella antica, questa è la tomba 2, la seconda tomba appunto che si può visitare nel sito, poi vi spiegherò un po' meglio insomma a che poco appartiene, c'è un grande edificio che ripropone un po' come dire l'architettura anuragica, là c'è un albergo, un ristorante e anche un bar con una sala conferenze, quindi questo sito a differenza appunto di Il Bono si raggiunge anche con grandi mezzi, certo un po' distante da Cagliari, bisogna mettere in conto due ore, un'ora e mezzo più o meno di viaggio. Queste sono appunto alcune riprese che riguardano le escursioni notturna, perché noi negli ultimi anni stiamo puntando molto proprio sulla furibilità del sito, anche appunto di notte. Questa è la prima struttura appunto che trovate appena si arriva, è la biglietteria e questa è la visuale che si può avere proprio dal nuraghe, si domina l'intero gli astra, insomma tutta la catena appunto che appartiene al Monte Triccoli e proprio di recente è stato inaugurato anche un sentiero in mezzo al bosco anche per i diversamenti piatti, c'è appunto un tracciato di legno che permette di fare delle escursioni anche con la carrozzina, sono insomma di un chilometro. Quella che vedete in fondo invece è un'antica cantoniera dei primi del Novecento che rappresenta un po' il punto di confine tra il territorio di Selene e quello di Gairo. Il nome Selene, il nome Selene insomma è un nome per certi aspetti evocativo, ci sono due spiegazioni, la prima come dire è sicuramente quella più affascinante e riguardo l'antica divinità della luna Selene o Seleni, tra l'altro se proprio vogliamo insistere su questa spiegazione, la presenza delle nostre domus de gel, scusate delle due tombe dei giganti, ma a breve distanza c'erano anche due pozzi sacri, poi vedrete insomma è stata trovata anche una sacerdotessa che oggi è esposta al Museo archeologico di Cagliari, ci farebbe effettivamente propendere per un luogo sacro un santuario magari legato anche ai culti lunari. Secondo altri invece ci sarebbe una spiegazione sicuramente meno affascinante che è legata invece a Sant'Elena o Sant'Aleni o Sant'Eleni e diventata appunto Seleni, a meno che insomma non parliamo di sincretismo religioso laddove appunto questa Sant'Elena effettivamente va a sostituire antiche divinità, cosa che succede spesso in Sardegna meno solo, anzi insomma abbiamo davvero tantissimi tantissimi esempi. Quindi le priori sono queste però nessuna delle due è certissima. Fatto sta che il nome Seleni lo potete trovare anche nella variante Selene, solo a Lanusei lo chiamano Seleni, io lo chiamo sempre Seleni perché sono lavorando appunto per il territorio di Lanusei e mi attengo insomma alla pronuncia locale. Bene, dove ci troviamo? Ci troviamo nella costa centro orientale dell'isola, siamo nella regione storico-geografica dell'Ogliastra, una regione come sapete abbastanza aspera dal punto di vista territoriale e per diversi decenni se non secoli è stata anche una regione abbastanza problematica dal punto di vista sociale, pensiamo al fenomeno appunto alla piaga del banditismo. Bene, oggi superato insomma questo problema l'Ogliastra punta, sta puntando appunto tantissimo sulla sua promozione in termini turistici perché? Perché un luogo che unisce mare, montagna, archeologia, gastronomia, insomma in Ogliastra potete davvero trovare di tutto, ce n'è per insomma tutte le esigenze, potete nel giro appunto di 20 minuti passare da cime alte più di 1000 metri appunto ad una costa bellissima per chi insomma la frequentata sa bene che le spiagge ogliastrine insomma sono davvero tra le più belle io credo di tutta l'isola. Quindi io attualmente sono dall'anno, dalla fine del 2021 il direttore, il responsabile scientifico di questi due parchi archeologici, prima quello di Seleni all'Oseo e secondo quello di Sheri a Il Bono. Allora cominciamo da Seleni, Seleni è posizionata pensate a quasi mille metri di altezza, ecco perché vi ho messo un'immagine, la prima immagine del muraghe ricoperto da questo manto bianco di neve e questo cosa vuol dire? Che ci sono diversi giorni l'anno, una volta anche alcune settimane in cui insomma i nostri monumenti sono ammantati da questa coltre bellissima bianca, salvo insomma particolari problematiche legate magari alla chiusura della strada, il sito comunque è sempre aperto, 365 giorni all'anno e quindi si può visitare in diverse sfumature, lo potete vedere appunto in inverno con la neve, lo potete vedere in autunno, è bellissimo perché come vi dicevo il parco è immerso in una foresta fatta di lecci ma anche di castagni, quindi questo cosa vuol dire? Che vedete proprio il colore dell'autunno a partire da ottobre, più o meno vedete qua ho fatto una foto con il frutto del castagno e poi lo potete vedere in primavera cominciano a risbocciare i fiori e poi c'è un viale bellissimo fatto con delle piante di ciliegio giapponese che è una fioritura bellissima ma non produce almeno lì dei frutti, questo perché è stata proprio una scelta dell'amministrazione comunale per evitare che si riempisse la strada da dove passano auto di frutti di ciliegio, però dal punto di vista cromatico è davvero qualcosa di spettacolare, infatti vengono tantissimi appassionati anche di natura, di botanica nel nostro sito, alcuni decidono di visitare i monumenti, altri invece di passeggiare nel bosco e quindi fotografare le diverse specie botaniche che si possono incontrare. Allora vi do qualche cenna sulla storia del sito, pensate che le prime ricerche sono datate al 1860, il generale, anzi il cavaliere Alberto Ferrero della Marta, che molti di voi già sicuramente conosceranno per i suoi immensi studi, la sua passione, il suo amore per l'isola, lo portò anche a Lanusei, cioè non c'è angolo di Sardegna che quest'uomo, questo grande studioso non abbia visitato. E ci dice anche che già nel 1837, lui non la chiamava Seleni, però la chiamava Padenti e Baccai, poi oggi siamo riusciti a individuarlo proprio nel sito di Gennacini che stiamo scavando, e parla anche di un'altra località che è Perdevroris, che dista veramente poche centinaia di metri dal sito, oggi c'è un agriturismo, prima c'era un ovile e pare che proprio ora avessero trovato una quantità di tesori enormi, soprattutto di età neuragica, tantissimi bronzetti, due riuscirono a confluire al Museo di Cagliari, ecco a proposito di reperti spariti, di questi due, ecco solo uno è giunto fino ai giorni nostri, che è questa bellissima sacerdotessa, va detto anche che sì, forse in quegli anni c'era il famigerato Gaetano Cara, che era stato l'ideatore della truffa ai danni del re Carlo Alberto, con i famosi bronzetti falsi che oggi trovate esposti all'antiquario in marmorense di Odistano, però anche molti oggetti autentici sono stati veniduti, quindi non lo sapremo mai qual è l'altro bronzetto che scompassa. La sacerdotessa di Seleni, questa sacerdotessa, questo bronzetto che vi dicevo è stato rivenuto probabilmente agli inizi dell'Ottocento, è un bronzetto che ha riscosso un certo successo, perché è stato rifatto da diverse persone che si occupano di riprodurre l'abbigliamento neuragico, Andrea, l'amico Andrea Lodo, essendo lui tra l'altro il gastrino originario di Tortolini, ha realizzato ha realizzato anche, no scusate l'anusino, ha realizzato appunto una copia di questo bronzetto, rappresenta una donna con questo atteggiamento proprio ieratico, che porta un cappello, vedete conico, in origine probabilmente aveva una piccola falda che poi si è rotta o è stata rotta, insomma non sappiamo bene come si sia appunto così deteriorata, è un viso come avete abbastanza schematico, la mano destra sollevata in segno di saluto, ma saluto divino, quindi l'orazione, ecco, e nella mano sinistra tiene una ciotola, una ciotola che sembra piegata quasi verso l'interno, come se dovesse versare, e poi indossa questo bellissimo mantello, una lunga gonna, e questa goliera o gorgera che vedete parte da sotto il mento e arriva praticamente fino al seno. Questa statuina dovrebbe provenire proprio, si dice da Palente e Baccai, che noi oggi chiamiamo Gennacili, il sito è suddiviso in due parti, abbiamo la prima parte con le due tombe di giganti, 100 metri più avanti abbiamo il Uraghe e il villaggio che attualmente appunto è oggetto di scavo. Allora, quando arrivate nel sito, troverete appunto le indicazioni per la tomba 1 e la tomba 2. Possiamo offrire, come dire, due tipologie architettoniche, funerarie ed etanuragiche di epoche differenti. La prima tomba, denominata anche la tomba 1, è la tomba più antica, è una tomba appunto che venne realizzata approssimativamente, noi crediamo tra il 1800 e il 1600 avanti Cristo, è la tipologia cosiddetta arcaica, che proviene direttamente dalle architetture megalitiche, dolmeniche, infatti c'è un corridoio di circa 15 metri di lunghezza fatto appunto con lastre in fisse di coltello, in origine probabilmente era ovviamente piatta bandata, c'erano delle lastre che coprivano questo corridoio e poi l'esedra, cioè queste due ali, vedete, che si aprono dall'ingresso principale con delle lastre lavorate sempre di granito, lì di granito non manca, è abbondantissimo. Questa tomba è stata sottoposta a indagine scientifica, diciamo che i primi scavi moderni si datano agli inizi degli anni 90, qui ho però l'archeologo Mauro Perra, che ha condotto gli scavi sia nella tomba 1 che nella tomba 2 e purtroppo il materiale scheletrico era già scomparso, vuoi perché da una parte il granito, lo sapete, è una roccia molto acida che tende proprio a deteriorare il materiale organico, soprattutto quello osseo, e dall'altra perché probabilmente era stata già spoliata nel corso dei secoli, nel corso degli anni. Ci sono tantissime pietre lavorate attorno, per cui noi presupponiamo che le tombe fossero anche più di due. E poi vedete i banconi in sedile, quando si arriva lì ho l'impressione che la sacralità sia rimasta da 4.000 anni fino ai giorni nostri, e poi l'altra tomba, si percorre un sentierino, si fanno più o meno 80 metri, è un po' più in salita, e si arriva a questa bellissima splendida tomba, qua vediamo un'immagine scattata dal drone, è immersa anche questa all'interno di questa fitta foresta di Lecci, ed è una tomba un po' più recente, perché? Perché siamo nella tipologia a filari, quindi se quella prima che abbiamo visto si datava più o meno tra il 1800 e il 1600, questa possiamo partire tranquillamente dal 1600-1500 a.C. Anche in questo caso la tomba non ha restituito materiale scheletrico, ma solamente alcuni frammenti di ceramiche che poi vedremo. Quindi stando a 1.000 metri di altezza, comincio già a dirvi che d'estate è fantastico, perché l'aria è ossigenata, abbiamo molti turisti che arrivano dal mare alla sera, perché noi proponiamo durante praticamente tutta l'estate anche le visite notturne, ma anche durante il giorno, vi assicuro che a parte qualche giorno di calura estrema si sta abbastanza bene. Sempre di fronte alla nostra tomba dei giganti, la 2, abbiamo anche questi due conci cosiddetti a dentelli sulla cui funzione ancora, probabilmente ne avete già parlato anche in qualche conferenza, qualche occasione, ecco non è molto chiara l'ipotesi che servissero proprio per contenere dei piccoli betili, dei piccoli idoli di pietra, di legno che sono stati trovati e soprattutto quelli di pietra. E poi abbiamo il nuraghe, il nuraghe che è fantastico, è fantastico, io la chiamo la mia maciupicio perché quando si arriva, ovviamente il paragone del tutto personale sia chiaro, però è molto affascinante vedere appunto questa muraglia nuragica che avvolge, che abbraccia questa grande pietra di granito in uno dei punti più alti di questo colle. Ecco dovete sapere che la marmora quando ci parla appunto di questo nuraghe, ci dice anche, ma in totale buona fede, tant'è che fa anche un po' sorridere, io ho visto appunto le mura di questo nuraghe, siccome volevo capire cosa ci fosse dentro, ho fatto demolire tutto il mura, insomma che in maniera molto veramente va contestualizzato in quel periodo. Oggi non sarebbe possibile? Assolutamente, non l'ho poi l'ha fatto demolire, non so se con delle persone che lavoravano per lui, insomma, il fatto sta che poi ne abbiamo proprio trovato i massi della prima, del primo strato di questo muro che erano insomma pochi metri. Quindi le nuraghe particolari, vi dico anche che ci sono alcuni archeologi che non lo definiscono nuraghe, lo chiamano struttura nuragica perché l'interno è molto anomalo rispetto ai nuraghi classici, secondo me è comunque nuraghe, nuraghe particolari come tutti i nuraghi o gli astrini si è dovuto adattare agli asperità di questo territorio e laddove appunto non era possibile, ovviamente hanno dovuto fare i conti proprio con questa roccia, però l'importante era avere una grande visibilità, infatti da qua sopra si domina insomma gran parte della Sardegna centrale, vedete oltre alle nuraghe abbiamo poi anche un villaggio tutto attorno, un villaggio appunto di, abbiamo censito diverse decine di capanne, alcune sono quasi addossate alle nuraghe e di queste decine insomma purtroppo ne abbiamo attualmente scavate solo quattro e questa insomma è una planimetria che ci mostra un po' la prima parte perché il villaggio si estende all'interno della foresta, solo che immaginate gestire tutto e già qua c'è un primo problema perché non si può, quando si decide di gestire e valorizzare un sito bisogna fare anche i calcoli proprio con l'estensione, è meglio come dire occuparsi di poco ma valorizzarlo bene piuttosto che avere dei grandi spazi, delle grandi aree che poi è difficile gestire per tutta una serie di motivi perché quando si gestisce un sito, poi bisogna fare anche la manutenzione e la manutenzione costa, devi fare la sorveglianza e anche quella è da mettere in conto, quindi noi abbiamo deciso, noi prima di me hanno deciso appunto in collaborazione con l'amministrazione comunale di espropriare solamente una parte. Allora i materiali rinvenuti, faccio una breve carrellata, sono materiali per lo più ceramici, sono tutti materiali rinvenuti appunto dall'archeologo Mauro Perra, vedete vanno da varie epoche, dall'età del bronzo medio, recente, all'età del ferro, qualche strumento anche in bronzo come questa capocchia che vedete, uno spillone e una fibula in bronzo. probabilmente il sito come tanti altri siti di età noragica ha subito varie fasi, si parte da una fase tra virgolette civile barra militare, insomma se vogliamo parlare appunto di controllo del territorio, ha una funzione sacra nell'età del ferro e è proprio qua appunto che l'archeologa che voi ospiterete la settimana prossima, che è la dottoressa Gianfranca Salis, funzionaria della soprintendenza, è lei che ha messo in luce gran parte insomma di questo villaggio. Ha messo in luce anche una parte molto interessante che è la rotonda con bacille, queste strutture di cui ancora tanto si parla, con varie teorie, ne sono state trovate un centinaio, attualmente pensate che solo barumini su un ragine A8 e benché il professor Lilliu immaginasse insomma che all'interno di questi grandi vasconi si facesse, si appunto lavorasse il pane, in realtà la funzione probabilmente è tutta altra, una funzione legata proprio alle acque e appunto al calore dell'acqua. Questo bacille che vedete al centro è stato trovato in maniera insomma frammentaria e per questo è stato portato nel vicino centro di restauro di Lanusei che come vi dicevo è un centro di restauro molto importante e da adesso in poi arriveranno tutti i reperti ritrovati nella zona centrale della Sardegna arriveranno lì, quindi abbiamo una fortuna, quella deve avere un punto di riferimento importante anche per gli scavi perché ogni giorno appunto i reperti ritrovati andavano direttamente al centro di restauro e questo bacille appunto è stato restaurato e la soprintendenza ci regalerà appunto una copia da rimettere in sito. E questo è l'ultimo scavo, io non l'ho seguito direttamente, si erano uno dei responsabili però ha scavato con archeologa di origine pugliese, molto brava insomma ha fatto un lavoro eccellente. Lo scavo è importante perché richiama molta gente e perché noi puntiamo molto al fatto che si continui a scavare perché lo scavo attira turisti e noi dobbiamo vendere questo prodotto, lo dobbiamo raccontare, dobbiamo far sognare il visitatore. E ovviamente più dati abbiamo meglio è, anche immaginare che ci stiano lavorando gli archeologi, questa è una cosa vi assicuro che piace tantissimo, si fermano lì, osservano, guardano insomma queste persone che scavano in maniera meticolosa e a volte vorrebbero stare lì per ore a vedere appunto gli archeologi. E passiamo all'altro sito, insomma l'altro sito ugualmente il bono è ricchissima di testimonianze archeologiche, proprio lì a breve distanza da Asceri si trova un masso, un masso di granito chiamato Saverde Shinkugoros, la pietra dei cinque cuori, perché ne ho trovato proprio delle spirali, queste famose figure in realtà non sono cinque ma sono ben undici e nel territorio ne sono state trovate altre, un po' come è successo a Mamoiada. E sempre dall'area di Shinkugoros proviene questa bellissima testa in osso di una statuina di Dea Madre, equivalente appunto alla cultura di San Ciriaco. Ecco, come avete visto nel primato prima, quello che noi proponiamo invece a Shinkugoros è un viaggio nel tempo un po' più lungo, perché partiamo dal Neolitico recente, dalla cultura di San Michele di San Ciriaco con queste due belle domus legianas, soprattutto una è particolare, vedete, perché sta in questo masso più o meno isolato, poi ce neanche altre, abbiamo trovato altre domus, altri anfratti. Adesso stiamo procedendo proprio a una pulizia generale del sito, perché per anni non l'abbiamo preso in gestione l'anno scorso, però tutte le gestioni precedenti non hanno mai, come dire, disboscato, ma questo non vuol dire che dobbiamo tagliare tutte le piante che ci sono, fare una cernita, ma cercare comunque di offrire al visitatore anche, come dire, una visuale che sia archeologica e non solo naturalistica. Il nuraghe che avete visto prima è un nuraghe trilobato, qua siamo certi che sia un nuraghe, è un nuraghe con appunto la torre centrale, il maschio, con una camera anche molto ben conservata e tre torri perimetrali che, insomma, dovremmo scavare a breve termine. E passiamo adesso alla gestione, dopo questi prodromi legati appunto allo sfero dei siti, in che modo gestire? Allora, partiamo appunto da un dato che è legato proprio alla longevità della cooperativa, la cooperativa La Nuova Luna, che pensate gestisce il sito di Sereni da ben 26 anni, è una delle più longeve in Sardegna, lo gestisce in maniera ininterrotta. Questa è una fortuna, è una fortuna perché ti permette comunque di programmare, anche se poi la concessione è triennale, sia chiaro, però permette appunto di programmare anche a lungo termine e la gestione di questi due siti, pensate, dà lavoro a ben 13 persone, quindi 13 stipendi che, insomma, rimangono come dire, in ogliastra. I nostri luoghi sono questi, quello centrale riguarda appunto il parco archeologico di Sereni, che comprende appunto le tombe dei giganti e il nuraghe, poi quello di Libono è questo, questo qua, il cuore, perché? Perché riprende Saverde Shikugoroso, che vi ho fatto vedere prima, e poi il nurarchioparche, vedremo che invece, vedete, i colori sono gli stessi, il verde e il nero, e abbiamo deciso di utilizzare appunto quel concio a dentelli che abbiamo visto prima. Quindi c'è ovviamente anche nella grafica un rimando appunto a dei simboli, degli emblemi proprio dei blessiti. Queste sono appunto delle locandine che noi diamo ai nostri visitatori quando partecipiamo alle fiere, l'abbiamo chiamato proprio bosco archeologico, perché è un bosco ricco appunto di sorprese archeologiche. Allora, come vi dicevo, la nostra esperienza dura da 26 anni, io ci sono solamente da 3 anni, ho trovato insomma le cose già fatte, una realtà importante nel territorio che, ripeto, dà lavoro a 13 persone, più tutto l'indotto, perché come vi dicevo, a pochi metri c'è un ristorante che è aperto tutto l'anno, un albergo immerso proprio nel bosco, poi un bar, poi sebbene sembri isolato, in realtà quella è una zona di passaggio, transitano molte persone, non tutti ovviamente si fermano a visitare il sito, ma comunque chi viene a visitare il sito poi automaticamente va a bersi il caffè al bar, spesso si ferma a mangiare al ristorante, quindi questo sicuramente è un esempio di come possiamo far girare l'economia non dico proprio all'interno del territorio, ma all'interno proprio della stessa area, benché siano due gestioni diverse, ma comunque c'è una proficua collaborazione. Non offriamo solamente la visita ai siti, ma gestione di un sito significa inventarsi sempre cose nuove, proporre sempre delle cose nuove, ed è una logica, una politica della quale bisogna tener conto, perché questo succede anche nei musei, pensate, dopo che sono state esposte le statue di Monteprano hanno avuto un picco enorme, poi dopo qualche anno stavano riscendendo, perché? Perché non si proponevano delle novità, quindi la novità è sempre importante e fondamentale per richiamare anche le persone che teoricamente hanno già visto il sito, ma proporre delle cose nuove significa anche fidelizzare i visitatori, ecco perché noi abbiamo una proficua collaborazione con gli istituti scolastici, da noi arrivano moltissime scuole, migliaia di studenti, soprattutto delle scuole primarie, ai quali proponiamo appunto diversi laboratori, quindi non proponiamo solamente la visita del sito, ma vogliamo che i visitatori, soprattutto i più piccoli, possano interagire, quindi proponiamo laboratori di accensione del fuoco, del disegno preistorico, la lavorazione dell'argilla, ed è una cosa che a me piace tanto, perché come vi ho detto prima, io scrivo libri di archeologia per bambini e l'aspetto della didattica infantile nel sito archeologico è un aspetto molto importante, noi vogliamo puntare molto anche sul turismo archeologico fuori dalla Sardegna, noi siamo completamente fuori, ecco quindi ti do degli spunti, non avrei sicuramente bisogno di spunti perché le idee si avrei già abbastanza chiare, però siccome abbiamo bisogno di persone come Pierluigi, insomma, e quindi una cosa sulla quale dobbiamo puntare è proprio il turismo scolastico, la Sardegna è fuori da queste rotte, quando invece economicamente è una cosa che sicuramente potrebbe aiutarci tanto. Nel sito noi abbiamo un bookshop all'interno della biglietteria con una proposta, insomma, di libri, merchandising, libri ovviamente che siano di archeologia o che riguardino la Sardegna e vi assicuro che vendere gadget come t-shirt, come spill, penne, ci aiuta tanto, tantissimo dal punto di vista economico, soprattutto quando vengono le scuole, bambini vogliono un ricordino ed è una cosa davvero che ci aiuta tanto, infatti puntiamo anche a ingrandire il nostro bookshop, ad acquisire sempre materiali nuovo, e ci stiamo tecnologizzando, perché oltre al sito internet, alle pagine facebook, si può appunto prenotare la visita anche con il telefonico, quindi da un'app. A proposito di proporre sempre cose nuove, bisogna tenere conto che il sito archeologico può prestarsi tranquillamente ad altri eventi che non siano strettamente, necessariamente collegati all'archeologia. Ecco perché proponiamo spesso presentazioni di libri, oppure spettacoli teatrali, qua abbiamo messo giusto alcuni esempi, dei tanti, noi partecipiamo ogni giorno alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, proponiamo delle tappe anche del trenino verde, perché a poche centinaia di metri c'è proprio la sosta del trenino verde, quindi questo è un altro vantaggio, noi collaboriamo con loro perché ci fanno arrivare soprattutto in estate, in primavera, parecchi turisti, visite appunto che spaziano anche nell'enogastronomia, visite notturne con appunto la visione delle stelle, perché immaginate il cielo quanto è pulito, siamo in alto, quindi non c'è inquinamento di metri, ma non solo vi dirò, a un chilometro di distanza abbiamo l'osservatorio astronomico e non tutti sanno che la società, l'associazione astronomica di Lanusei è una delle più antiche in Italia, mi pare che abbia più di cento anni o qualcosa del genere, collaboriamo anche con loro, arrivano alcuni astronomi che collaborano con il nostro osservatorio e appunto ci danno una grossa mano nell'organizzare eventi in notturna. La televisione, quando si decide di valorizzare e gestire un sito non dobbiamo mai dimenticare di promuoverlo e sfruttare qualsiasi occasione utile, insomma possa far parlare del sito. Qua vi ho proposto due esempi, l'anno scorso abbiamo ospitato una troupe canadese, una tv canadese del Canada francese, con due conduttori molto famosi in Canada, sono un po' l'equivalente dei nostri Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che hanno fatto un programma dove hanno girato per il mondo e hanno scelto 3 o 4 siti per la Sardegna, tra cui appunto il nostro, poi qua abbiamo Lorena Bianchetti che è venuta a fare un servizio per il programma Sua Immagine e anche quello ci ha fatto parecchia pubblicità, non è che nel momento in cui si manda in onda del servizio arrivano a fronte ai turisti, no, non funziona proprio così, a tamburo battente però bisogna come dire sempre essere attivi da quel punto di vista, bisogna partecipare agli eventi fieristici, le borse del turismo, bisogna essere presenti anche in queste grandi vetrine, piccole e grandi vetrine, archeologica, da poco appunto abbiamo partecipato alla fiera del turismo archeologico di Parumini, anche lì, non è che nel momento in cui partecipi poi il giorno dopo arrivano i gruppi, però devi appunto essere presente, a volte sono più le spese, come dire, nella promozione che non è il guadagno immediato, ma vi assicuro che poi nel giro di pochi mesi, alcuni anni arriva e andremo adesso a febbraio alla Turisma di Firenze, una vetrina importantissima, anche lì abbiamo deciso di fare un investimento con il sistema culturale di Astra, quindi con i comuni anche di Il Bona, di Villa Grande e Strisai, con i quali collaboriamo molto, lì c'è il bellissimo sito di Sacque Scorros, Sagarkared, insomma nel giro veramente di pochi chilometri si possono vedere delle realtà importanti e facciamo parte anche del distretto culturale nuorese, quindi questo ci permette appunto di collaborare con altre realtà culturali della provincia di Nuoro, insomma quelle barbaricine quelle o industrie, diamo un passaporto che appunto dà la possibilità qui di avere degli sconti sugli ingressi nei siti con i quali collaboriamo, partnership, noi collaboriamo con molte associazioni, con altre realtà turistico-archeologiche e bisogna fare rette, questo è fondamentale, mai ragionare in maniera egoistica, mai pensare a dobbiamo fare più numeri di cose, no no, bisogna ragionare proprio non solo in termini di territorio ma quanto più ci si estende meglio è e poi soprattutto avere un'internazionalità proprio nel sito, noi abbiamo delle guide che parlano queste appunto quattro diverse lingue oltre l'italiano, abbiamo anche una guida che è madre lingua in inglese e si occupa anche appunto oltre che delle visite guidate anche delle traduzioni e abbiamo poi anche le audio guide fatte appunto con queste diverse lingue. E adesso parliamo insomma della nostra ultima creazione, a proposito di inventarsi sempre cose nuove o proporre qualcosa di nuovo, abbiamo inaugurato l'anno scorso, il 21 giugno nel 2023 il NUR Archeopark, era un sogno, un sogno per me e il mio collega Salvatore perché noi vent'anni fa andammo con l'università a visitare la Valca Monica e lì oltre appunto al sito con queste bellissime incisioni rupesti dovete sapere che c'è un archeopark che è il più bello credo in Italia e noi già vent'anni fa ci diciamo ma sarebbe bello farlo anche in Sardegna e ci siamo riusciti dopo vent'anni siamo riusciti anche con un finanziamento regionale a realizzare il primo vero archeoparco della Sardegna provvisto insomma di tanti di Tiascalichi che vedremo, questo è proprio il giorno dell'inaugurazione dove è venuto appunto anche l'assessore regionale ad accogliervi c'è un pannello con la nostra mascotte che si chiama appunto Seleni e che è stata disegnata dall'illustratore che si occupa delle illustrazioni dei miei libri quindi questa sacerdotessa che prende spunto dal bronzetto un po' così svampita è una cosa che piace molto ai bambini e durante tutto il percorso ci sono dei pannelli proprio con la sacerdotessa che è appunto indica, spiega e soprattutto la nostra panelistica è trilingue l'abbiamo appunto in sardo, in italiano e in inglese quindi abbiamo puntato molto anche sulla valorizzazione e l'utilizzo della lingua sarda anche per fini divulgativi e scientifici è un parco pensato per i bambini ma non solo, per le famiglie, molto spesso appunto arrivano famiglie che visitano solamente l'archeoparco perché? Perché è un buon modo per conciliare entrambe le esigenze, quella futura di tutti ma anche quella dei ragazzi che sapete poi si annoiano facilmente quindi bisogna trovare un modo per accontentare entrambe le fasce d'età quindi sono già arrivate diversi istituti scolastici, il percorso, un percorso che piace molto va dalla preistoria fino addirittura all'età storica con la stella di Nora e queste sono le nostre didascalie, i nostri pannelli, i tre lingui con numerose appunto illustrazioni, fotografie, di questo qua siamo nella parte che precede l'arrivo dell'uomo e di questo se ne è occupato appunto l'Università di Cagliari, la Facoltà di Scienze Naturali, il dottor Daniel Zoboli ha curato tutta questa parte e abbiamo messo anche delle sagome di questi tre animali che rappresentano la fauna diciamo sarda prima della fauna plistocenica, quindi il Megace e lo Scaziotico, questo cervo, il Mamutus, la Marmorai e poi il Cinoteno Sardus. All'interno del parco troverete la ricostruzione fedele della capanna di Serralinta, una capanna che venne rinvenuta nel 1986 per la prima volta nel fondale del lago Modeo, nel territorio di Sedilo, che è stata una novità importante per l'archeologia sarda perché ha spiegato anche la forma di alcune domus de Janos, questa forma mista che era psidata ma con un ambiente anche rettangolare e all'interno le capanne, tutte le capanne sono arredate con riproduzioni di vasi dell'epoca, macine, altri oggetti insomma tipici di quel periodo e poi abbiamo ricostruito a grandezza naturale, quindi fedelmente, proprio la rotonda con bacile di Soselle e Soscarros di Oriena. Abbiamo rifatto, vedete, i blotti di basalto e di caicare, quindi questa bicromia tra il bianco e il nero, il bacile centrale con le piede, perché la nostra ipotesi è che ci fossero delle piede che servivano a riscaldare quest'acqua e sotto c'è proprio un attrezzo che è una macchina del fumo che quando si entra fa vedere il fumo che fuoriesce riesce e c'è anche l'acqua collegata, quindi abbiamo la possibilità di far fuoriescire da questi doccioni proprio l'acqua e a franco c'è anche il fuocolare, tutto a grandezza naturale. E poi abbiamo riprodotto, in scala ovviamente ridotta, il relito di un uburun che Pierluigi conosce benissimo e sicuramente insomma avrete avuto modo di vedere anche in qualche conferenza, abbiamo recuperato una nave, una barca che ci hanno regalato dal porto di Arbatax e che ne abbiamo messo qua in mezzo alla foresta come un vascello, un vascello insomma alla deriva, quindi abbiamo ricostruito le ancore di pietra, i vasi poi abbiamo rifatto anche gli oxide ingots, abbiamo le uova di struzzo e voi vi chiederete ma che materiale hanno usato per fare questo? È un materiale leggero tipo gas beton, quindi si lavora facilmente è resistente comunque anche alle piogge, però anche questa è una cosa che piace molto, qui abbiamo una grotta dove abbiamo rimesso lo scheletro di Sisaia, appunto la donna che subì questo intervento chirurgico, gli spieghiamo appunto tutta la storia di Sisaia, allora concludiamo con questa frase, la cultura rende più della cocaina, è una cosa che Pierluigi dice spesso, investire in cultura è una cosa tra le più renditizie che si possa avere, perché è proprio provato che ogni euro investito in cultura ne produce 4, noi siamo l'esempio di come questo possa succedere, perché oltre a questi 13 indotti diretti che sono appunto i dipendenti della cooperativa, abbiamo un indotto un po' più grande che è derivato appunto dalla presenza dell'albergo o un ristorante, a pochi metri abbiamo anche un agriturismo che lavora grazie alle persone che noi mandiamo, oltre a questo abbiamo tutta una serie di collaboratori che ci danno una mano, ci sono delle persone che fanno anche delle escursioni con i 4x4, insomma riusciamo davvero con questo sito a richiamare visitatori che poi decino di restare nel territorio e far girare così l'economia, oltre a questo quindi ovviamente bisogna avere delle idee sempre nuove sulla gestione ma soprattutto sugli eventi, però ecco io sono l'esperienza, la prova di come appunto questo prodotto possa funzionare e vi dirò di più, c'è sempre più sete proprio di conoscenza e voglia di visitare i siti archeologici e culturali, quindi è un percorso che dobbiamo inevitabilmente intraprendere, è un percorso che rappresenta il nostro futuro, io come vi ho detto lavoro in due territori diversi, uno è l'Ogliastra che è arrivata ben prima del Sulgis a questa soluzione, il Sulgis che ancora non fa pace con se stesso perché c'è un settore economico che ahimè quello dell'industria, ve lo dice il figlio di un operaio che lì è lavorato per decenni, ma che non può più essere intrapreso, quindi bisogna avere proprio il coraggio di intraprendere una nuova strada che è quella del turismo culturali, io sono certo che è la strada giusta, quella che appunto dalla quale poi non si trova indietro in termini economici e che può andare davanti da sola, una volta insomma che viene aiutata in un primo momento proprio può viaggiare tranquillamente da sola. Bene, io ho concluso, vi ringrazio.